Le sfide erano sette, erano quattordici MC, di conseguenza ce ne sono sette per arrivare a numero pari, c'è uno spareggio di due ripescati, i due ripescati che vengono sul palco in questo momento sono Fezzi, e Whip, e Tempesta, sfida tre. Tempesta deve tornare subito sul palco, troppo presto eh, troppo presto Tempesta, torna sul palco, era pronto, lo sapevo già. Visto che sono in tre, faranno tre minuti in quattro quarti, quindi botta e risposta, vedremo chi si allera, con chi. Abbiamo fatto... Tombola! Sì, passatevelo, passatevelo il microfono, datevi un giro e vi passate il microfono. Chi parte? Parte Whip, poi Fezzi, poi Tempesta, Spareggio. Parto io, fai che in senso orario, un vero peccato, siete due, non vedo un avversario. Siediti sopra il divano, perché nonostante tutto non colmi il divario. Sono tecniche di boxe, sono Jake Lamotta sul ring, senti la campanella fa drin drin, Tempesta, perso contro Bruno Paghi, io sono Mehdi Buffering. Mi dispiace, non dico di essere altro, mi dispiace che se faccio sono scarso. Solita storia che se faccio dentro lì l'impianto, questi no, non sanno farlo, nemmeno salire sul palco. Oh, bella volo con il suono, se ti sentirebbe l'impianto si spegne da solo. O se ti sentisse, vai che mi corrego, ma meno birre in questo parchetto. Ma non lo so, io ti trantumo contro di me, sono tecniche tipo di judo. Io non assumo, ma Tempesta ti hanno messo, microchip dell'auto ti uni in culo. Ho capito, ma porto lo stile, lascia stare, sono vivo perché ti uccido, Aikido. Hai capito, Aikido, non deve farlo perché come green rap pare, non è obbligatorio. Wow, ma che fantasia, Aikido è Aikido, non ha capito, vada via. Rime da periferia, altro che periferica, se questa l'hai capito, fra telecinetica. Ma qua siano dei massi, ma quale periferia vai giù ai gran sassi. Contro di me io sti rapper scarsi, non sai basarti, vai in palestra e imparato parti. Ho capito, ma come mi piglia con la famiglia, vado a fare la carta alla griglia. Mica ascoltare questi, no, non sanno farlo, quindi che cazzo scrivi i testi, non farlo. Si, rappi come un cane, fratichiamo Pluto, scusami se prendo il mic in mano e dopo sfuto. Bello quel tessuto, metti, prendi i tuoi capelli, gioco col cuoio capelluto. Un altro, rappi male o bene, contro di me fa rime, sui capelli non ti conviene. Se sente esa, si taglia le vene. Ho capito finché facce, dopo spingo, lascio il timbro, parla di capelli perché è uno spiro. E per forza arriva con la camionnetta, cani sciolti scappano di corsa. Si, io con la fiammella si sogna, mica fotti fiammetta, cicogna. Gatta ci cova dentro alle uova, portamene un'altra nuova, brada. Ma non lo so, danni un altro, un altro pack. Voglio allenarti ma non fai six pat. O buffering, hai l'alfa romeo, gli occhiali sei... Mi dispiace, non penso a Tupac. Gli voglio bene anche lui, lo sai, ha fatto il rap. Ma penso più a roba out school. Sono un dinosauro tipo Karen Swan. Quale roba out school? Sei sempre nell'Ethernet. Devi ethere. Mi sogni Slenderman. Slenderman, ti metto in pellicola, questa sfida è per sfiga tua, non è al cinema. Ma chi è partito? Tu o lui, quale dei due è il più impedito? Facciamo lui, dai, è sul freestyle. Ti do tecniche per me, non sei mica un samurai. Ho capito e dopo stupisco, finisco tutto, chiudo il giro, chiudo il disco. Ogni volta che se parto fornisco queste di cazzo, è già tanto che non le ho uccise. Oh, 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 oh. Questo è lo spareggio. Uno di loro tre accederà ai quarti. Ora sta a voi. Il primo che partite è Whip. Quindi se avete preferito Whip, la regola vale sempre. Chi vota per uno non vota per l'altro, quindi scegliete bene per chi urlare. Se avete preferito Whip, al mio tre è casino. Uno, due, tre. Il secondo era Fezzi. Se avete preferito lui e volete che acceda ai quarti, al mio tre è casino. Uno, due, tre. Per tempesta invece, al mio tre è sempre casino. Uno, due, tre. Il pubblico mi sembra per tempesta. I giudici dicono. Nash. Siamo d'accordo. Passa tempesta. Allora ragazzi, fate un applauso a tutti gli MC che hanno partecipato a questo primo giro. Da qui in avanti sono i quarti di finale. Ne abbiamo otto che si sfideranno. Com'è la modalità? Chiedo, eh. Sempre uguale? Un minuto, un minuto e poi due minuti e quattro quarti. Poi cambiamo la modalità, cerchiamo di metterle in difficoltà dalla semifinale in poi.